buongiorno agli ascoltatori occhio al caffè la resegna politicamente scorrettissima di libero allora hamas irride anche israele perché dà la notizia della morte di 50 ostaggi e lascia intendere piuttosto chiaramente li avete uccisi voi quindi siamo al paradosso per cui insomma anziché avere media internazionali un'opinione pubblica internazionale che mettano tutto sul conto di hamas e hamas che cerca di mettere sul conto di israele la morte degli ostaggi che essa hamas ha provocato intanto le forze israeliane hanno dato vita a una serie di blitz notturni e sembra avvicinarsi però naturalmente il calendario non è noto il momento dell'invasione lato italiano oggi è il giorno di manifestazioni piuttosto ambigue organizzate da una rete di associazioni assai discutibili e alla fine il pd che fa andranno alcuni esponenti a titolo personale si fanno i nomi di furfaro e della sereni che però sono a loro volta in dubbio insomma la schleina cerca di uscire dall'imbarazzo evitando che ci sia una delegazione ufficiale del pd va invece il movimento 5 stelle conte non sembra farsi questo tipo di remore e quindi la prima sezione della rassegna sarà dedicata a questo il campo e il lato italiano della guerra e c'è però una seconda sezione altrettanto significativa della rassegna che riguarda la manovra allora nei giorni scorsi erano uscite e ricorderete le critiche del nostro giornale le critiche di libero le prime indiscrezioni per esempio sull'incremento dell'acedolare nel caso di affitti brevi ieri erano uscite ulteriori indiscrezioni altrettanto preoccupanti su una norma della quale si parla carsicamente ci aveva approvato draghi poi si era dovuto fermare di accesso diretto del fisco ai conti correnti per i pignoramenti e avevamo sollevato il problema già nella rassegna di ieri poi nel corso della giornata c'è stata una grande tecnica palazzo chigi ha dapprima a un certo punto del pomeriggio precisato e poi smentito la norma non ci sarà attenzione però perché c'è un pressing di lega e forza italia non solo su questo tema ma anche su altri temi in modo a mio avviso più opportuno per rimuovere anche la norma sui sulla cedolare secca in modo più discutibile sul tema le pensioni quota 104 quota 103 e naturalmente ci sono due interpretazioni possibili che questo pressing avvenga diciamo così per correggere nel merito alcune norme non convincenti nella manovra oppure che invece sia in atto una strategia di forza e soprattutto di salvini per mettere in difficoltà la meloni naturalmente i giornali di un certo orientamento propendono per la prima ipotesi repubblica ad esempio propende invece per la seconda detto tutto questo andiamo alle aperture e l'apertura di libero è il mullah dibba concede il bis vi ricorderete l'esibizione martedì sera da floris questo comizio accalorato agitato anche col volto alterato dalla rabbia su gaza e ieri libero aveva fatto la copertina sul mullah dibba ripreso dalle televisioni dalle televisioni arabe con tanto di sottotitoli eccetera ieri di battista se con libero ha mostrato la copertina del giornale dicendo non mi farò intimidire e naturalmente noi proseguiamo il mullah dibba ci fa la fatua nuovo video del profeta di battista contro israele libero l'islam applaude lui fa la vittima il predicatore scansi lo soccorre poi l'occhiello sotto la chefia niente vedrete che dibba si incazza pure oggi vedrai che la cosa prosegue va bene questa l'apertura di libero ma poi vedremo tra poco nella carrellata iniziale una serie c'è ben altro oltre a oltre attiva il giornale che mostra nella foto pubblicata da israele ed è una foto solo chi ha il cuore di pietra può rimanere insensibile la foto di una serie di bimbi che sono i bimbi rapiti tuttora nelle mani di hamas altro che geopolitica ecco di cosa parliamo israele pubblica le foto dei 28 bambini tenuti in ostaggio da hamas il tempo l'europa cambia passo perché nel frattempo è in corso il vertice europeo vedremo quali sono state le conclusioni stanotte sul versante guerra ma c'è anche un tentativo di accelerazione sulla parte migranti su questo apre il tempo la verità è a roma l'uomo che mantiene gli orfani dei kamikaze islamici annun vi ricordate se ne ha parlato ne aveva parlato proprio la verità nei giorni scorsi un convegno assai discutibile organizzato a roma ora c'è un focus su questo personale questo rappresentante di hamas a roma figura inquietante avvenire è a gaza prove di invasione coi blitz mirati in preghiera per implorare pace e pietà oggi la giornata di digiuno e di orazione con il papa corriere della sera sotto la testata i tank a gaza uccisi due capi del terrore lue pause umanitarie e intanto amassa mosca titolo principale manovra attenzione tra alleati il fatto quotidiano si duole della circostanza che il governo faccia per fortuna retromarcia sulle norme sui conti correnti no manovra a pezzi tagli da 100 200 euro per 300 mila pensioni forza evasori meloni cede a lega e forza italia aboliti i pignoramenti ai conti correnti dei ladri quindi diciamo se un cittadino ha una cartella una questione aperta con l'agenzia dell'entrata per travaglio sono già ladri bene basta saperlo no quando vedete travaglio in tv se potessi vi farebbe il pignoramento nel tinello molto bene quotidiano nazionale fisco e pensioni la lega mette il veto il riformista sorride ma è un sorriso in suo modo intelligente una provocazione intelligente perché c'è un vecchio manifesto di berlusconi meno tasse per tutti titolo a quando c'era lui come dire che il centrodestra quel tipo di impostazione l'ha dimenticata l'unità che invece vuole vorrebbe che il pd andasse in piazza oggi la pace va in piazza pd se ci sei batti un colpo la stampa pensioni e conti correnti lite nel governo e il titolo sotto la testata ma il titolo principale nel taglio medio hamas chiede aiuto a putin e infine repubblica fisco dietro fronte di meloni questo è il quadro carrellata di segnalazioni iniziali da libero allora nella colonna degli editoriali il primo pezzo è in realtà cronaca e analisi di fausto cariotti sul vertice europeo che trova l'intesa e parla di corridoi e pause umanitarie ripetendo più volte l'aggettivo umanitario proprio per evitare equivoci cioè per evitare che il documento europeo potesse essere letto come una frenata rispetto a israele editoriale di mario secchi su un certo tipo di propaganda mediatica e politica che tende a far dimenticare i morti di israele e poi chi vi parla su una strategia di logoramento nei confronti della meloni a più tappe c'è il solito diciamo network romano istituzionale mediatico eccetera che sogna il governo tecnico che per tanti versi appare irrealizzabile quindi questo sogno bagnato questo desiderio del solito circuito sembra al momento non praticabile però la strategia di logoramento è sempre la solita si comincia con giorgia nervosa giorgia tesa l'argomento psicofisi giorgia non è serena come scriveva ieri la stampa e poi quali sono le altre tappe cerco di metterle in fila mirko molteni amas che irride israele vi siete uccisi da soli 50 ostaggi poi a pagina 4 l'anticipazione del libro di anna p goslar e chi è è un memoir della ragazza che fu amica di anna frank e quindi c'è la storia di anna frank vista dalla amica davide romano che è il direttore del museo della brigata ebraica di milano e che fa una proposta intelligente intervistato da claudio osmetti quella di un museo dei cioè contro tutti i totalitarismi per mettere in fila comunismo nazismo e anche islamismo come diciamo fattori di avvelenamento del vecchio e del nuovo secolo maurizio stefanini su tutti i finanziamenti onu alla striscia di gaza e andrea tempestini sulle singolari amnesie dell'unicef che dimentica i bambini ebrei uccisi alessandro gonzato sugli attorcigliamenti del pd che fa va non va in piazza però alla fine la soluzione quella che vi dicevamo della presenza titolo personale corrado ocone su le ipocrisie pacifiste da sempre nella storia dagli anni 50 e 60 del secolo scorso l'uso comunista della pace come strumento in realtà di supporto in quel contesto alla all'impero sovietico giovanni sallusti sul nulla dibba che lancia la fatua contro libero lorenzo mottola su una cosa divertente ed eloquente a enrico letta l'uomo dell'europa eccetera incaricato come sapete di redigere un certo rapporto è andato in commissione al parlamento europeo sono andati in cinque a sentirlo manco gli eurodeputati del pd diceva quello l'hanno rimasto solo con quella quell'errore di grammatica che però è diventato ormai una cosa divertente sui social attilio barbieri su francoforte che diciamo dopo dieci rialzi dei tassi si è finalmente fermata pietro de leo su gabriele albertini l'ex sindaco di milano che annuncia il ritorno in forza italia ferrari sul csm ci mancava pure questa che apre una pratica a difesa dell'apostolico e invece gli acometti su meloni che si ferma su la questione del prelievo forzoso conclusione divertente con fabrizio biasin che si dichiara un fan e un sostenitore un ammiratore dei cantautori con la pesce di martino però critica fortemente il nuovo disco in uscita che in effetti sembra veramente la collezione e la collazione di tutti degli stereotipi possibili sui giovani di destra la canzone si chiama così ragazzo di destra e diciamo tutti i luoghi comuni possibili vengono messi insieme da dai due cantautori va bene e vabbè per gli amici gattari segnalo anche dalla pagina della cultura alberto fraia che recensisce un libro delizioso scritto da un veterinario ed edito dall'aggiunti su tutti i gatti che sbroccano che come si spiega il fatto che il vostro creato abbia comportamenti strani sia di malumore faccia faccia il pazzo eccetera ve lo racconta ve lo racconta questo libro va bene e ricominciamo il giro dopo questa raffica di segnalazioni da libero israele facciamoci aiutare dal corriere della sera per riassumere ulteriormente quello che già vi avevo sintetizzato quello che già vi avevo sintetizzato nel sommario e da questo punto di vista aspetta che aspetta che te lo ritrovo eccolo qua pagine 2 3 e 5 del corriere della sera davide frattini incursioni a gaza con israele che prepara il terreno mentre hamas va a mosca lorenzo cremonesi a pagina 3 sulle uccisioni mirate uccisi il vice dei servizi e l'uomo dei razzi pagina 5 francesca basso sul vertice europeo vi leggo questo passaggio il compromesso raggiunto dopo cinque ore senza contare i negoziati tra gli scerpa nei giorni precedenti e che il consiglio europeo chiede virgolette un accesso umanitario continuo rapido sicuro senza ostacoli e che gli aiuti raggiungano chi ne ha bisogno attraverso tutte le misure necessarie compresi i corridoi umanitarie pause per esigenze umanitarie chiuse virgolette e riprende la basso l'aggettivo umanitario ripetuto più volte per non far passare il messaggio che israele debba smettere di attaccare le basi di hamas così il corriere andiamo a vedere due o tre cose allora la verità fa una cosa interessante e una è assai discutibile la cosa assai interessante i complimenti è giacomo amadori che fa l'approfondimento su questo signor mohammad annun della autoproclamata associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese e questo signore però è diciamo è descritto giornalisticamente come il rappresentante di hamasse in italia e comunque la sua onlus è da alcuni considerata uno degli strumenti finanziari riconducibili a quell'area è una associazione inserita in tutte le liste nere però questo continua a partecipare a conferenza a organizzarle l'uomo ha portato in visita nei campi profughi di battista e spiega il mio compito è smascherare la faccia criminale dell'entità ebraica questo è il soggetto e quindi fa bene la verità a illuminare le attività di questo signore dov'è che forse a mio avviso almeno è per quel che vale la verità fa meno bene con l'editoriale di belpietro che sembra tifare per putine dice ah putin beffa l'occidente hai visto che ha recuperato la sua centralità e si recupera la centralità ospitando diciamo i capi di hamas e ci convince di più l'apertura del telegraph di londra che descrive questa cosa non come una bravata di putin ma la descrive come una cosa orrida pezzo di apertura del telegraph in una mossa condannata da israele come un passo osceno che dà supporto al terrorismo i vertici russi hanno incontrato hamas e sono stati richiesti dal gruppo di prendere un ruolo attivo nella guerra quindi la cosa è duramente condannata dal telegraph descritta come un diciamo una furbata e un segno di vigore politico da belpietro sulla verità e avvenire e va bene allora naturalmente avvenire che deve fare deve seguire il papa questo si capisce però il solito editoriale ambiguo non manca neanche oggi angelo scelso si ritorna alla cosa della donna rilasciata nei giorni scorsi che nell'atto di essere liberata dà la mano a uno dei sequestratori e dice shalom è tutta una cosa lacrimosa e lacrimogena su questa roba qua quasi non c'è stato tempo per commuoversi di fronte a quel che si è visto al momento del rilascio della donna tutto è passato troppo in fretta sovrastato dalla furia di immagini che seppellivano di violenza quell'attimo di tregua ma fin anche il turbamento o l'attimo di sbarrimento del guerrigliero di hamas è parsa un tratto evidente la follia della pace ha preso per un attimo anche lui tutto dentro alla follia della guerra solo qualche attimo poi tutto è ritornato alla triste normalità della guerra ai torti alle ragioni anche se davanti alla storia hanno nomi diversi e più solenni così scelso però siete ambigui amici di avvenire i torti le ragioni quell'attimo eccetera e che dobbiamo fare quindi ci fissiamo su quel fotogramma e dimentichiamo i fotogrammi dei kibbutz il sangue i bimbi sguzzati le donne stuprate è tutto amnistiato è tutto condonato non ci sembra un buon criterio meno che mai ci pare buono il criterio del fatto eccolo qua di chi è la colpa di israele pagina 8 israele i mini raid di terra non decapitano a massa e condannano gli ostaggi quindi di chi è la colpa della morte degli ostaggi di israele e poi invece due paginoni di lancio della manifestazione pacifisti in piazza bibis dogana la vendetta di nuovo chi è il cattivo netaniao e poi tutto un apparato fotografico fotine e stralcio di dichiarazioni per lanciare gli organizzatori della manifestazione e chi c'è c'è lampi ci sono le acli c'è amnesty international non manca non manca nessuno la galassia delle associazioni si mobilita per chiedere in cessate il fuoco e contro chi fa ancora distingo fra i civili morti così il fatto totalmente a supporto della questione sul versante opposto ci pare interessante la riflessione che fa su italia oggi tommaso alessandro de filippo che dice guarda però che la testa del serpente è a teheran e l'iran e quindi tommaso alessandro de filippo ragiona sull'ipotesi che israel e usa possano a un certo punto concentrare la loro azione direttamente sull'iran è un'ipotesi come dire audace ma è un'ipotesi non priva non priva di fondamento tutt'altro a me pare il versante italiano ma poi alla fine il pd che fa va non va e alla fine si è attestato sulla formula per cui non ci saranno delegazioni ufficiali del partito democratico però potranno andare esponenti a titolo personale maria teresa meli sul corriere schlein e la manifestazione per la pace chi di noi andrà lo farà a titolo personale allora andiamo a vedere questo passaggio alla fine della segreteria dem potrebbero essere presenti marina sereni e marco furfaro ma anche quest'ultimo fino all'altro ieri sera non aveva deciso se andare a venezia o restare a roma per la manifestazione non ci sarà invece laura boldrini che pure mercoledì si è battuta come una leonessa per mettere nella risoluzione del pd qualche parola che non sconfessasse guterres quindi la boldrini non ci sarà chi è che invece auspica una presenza del pd e lo fa con toni assai enfatici l'unità di piero sanzonetti che in europa cresca un movimento pacifista esteso sereno sereno combattivo è molto importante le frasi fatte non servono a nessuno tanto meno a gaza il pd qui in italia un ruolo importantissimo in questo momento è la spina dorsale della sinistra il pacifismo è una cosa molto più grande della sinistra ma la sinistra è sempre stata il cuore del pacifismo è così storicamente non solo in italia il pd deve esserci stasera le manifestazioni con il suo popolo i suoi dirigenti finora il pd si è mostrato attonito e silenzioso di fronte a questa guerra timoroso di assumere posizioni nette ma se di fronte alle svolte della storia un partito si nasconde è finito questo è un appello al pd va in piazza prendi posizione entra nella lotta alle 18 e 30 a roma a santa maria maggiore a milano alle diciannove a piazza castello alla spezia segue convocazione quindi diciamo sanzonetti dirama le convocazioni e però attenzione è qui critichiamo sanzonetti ma lo elogiamo anche perché sanzonetti ha un impegno questa mattina per cui lo ringrazio alle 10 insieme a lucatelese altra voce orgogliosamente di sinistra che ringrazio allo stesso modo saranno con me alla sapienza a presentare il mio libro ospiti di azione universitaria speriamo che tutto vada bene ma è una testimonianza di grande civiltà che persone di opinione avversa vengano a a questo evento non semplice però è però l'unità e ci fa soffrire non vi basta pagina 1 con le convocazioni al pd arriva pure pagina 2 umberto de giovanangeli che intervista raniero navalle a gaza è in atto un genocidio netanyahu porta a fondo l'ebraese va bene e interessanti due voci contrapposte sul foglio due voci di sinistra perché c'è noi lo critichiamo sempre però oggi diamo atto a corrado augias che è assai infastidito dal cedimento culturale e morale della sinistra a favore di hamas rimuovere il 7 ottobre così la strategia di hamas ha fatto colpo sui progressisti è sentito da luca roberto mentre come sempre attorcigliato e ambiguo michi vendola è sentito da marianna rizzini e come finisce prima fa tutto un pippone contro hamas hamas nei kibbutz ha reso minuzioso lo sterminio domestico e uno è portato a dire beh ehi sto vendola per una volta diciamo individua il male no stai tranquillo non c'è il motivo di elogiare vendola perché seguire conti o no io ci andrò ecco portandomi nel cuore l'immagine di yocheved lifshid pure lei l'85enne che ha stretto la mano al sequestratore dicendo shalom da questa parola occorre ripartire shalom c'è l'urgenza di allentare la morsa bellicista che opprime il pianeta drenando risorse che potrebbero viceversa alleviare le pene dell'umanità del teatrino politico non mi curo più di tanto per me il tema è fermare la spirale dell'odio fermare la guerra poi vedremo se nella manifestazione ci saranno slogan contro israel eccetera poi altro che shalom va bene vendola andiamo alla manovra allora ovunque il passo indietro per fortuna definitivo sulla questione pignoramenti conti correnti e ovunque diciamo i segnali di forze italia in particolare positivamente va detto pure contro l'aumento della tassazione della cedulare secca per gli affitti brevi e invece la questione lega pensioni vediamo il corriere della sera pagina 11 affitti brevi no di forza italia all'aumento della cedulare secca tagliani ci batteremo perché non salga e il ministro lollo brigida sembra aprire in parlamento spazi per discutere e che ci sia una iniziativa di forza italia in questo senso lo conferma anche pagina 2 di repubblica dove viene sentito uno dei dirigenti più vicini attagliani credo sia portavoce nel nuovo organigramma di forza italia raffaele nevi le bozze in circolo non ci convincono e in modo giudizioso nevi dice questa parte no mentre la lega pone una serie di questioni sulle pensioni in particolare almeno da quota 104 andiamo a quota 103 il fatto è disperato per il fatto che non ci sia più la manona del fisco e dell'agenzia delle entrate direttamente nei conti correnti la rivolta pro evasori di lega e forza italia fa saltare i conti pignorati questa idea che diciamo tu avevi nel conto in banca più 5 e improvvisamente arriva l'agenzia delle entrate senza manco avvisarti perché sul pignoramento non avvisava in quello schema e ti portava a meno 5 questa cosa faceva eiaculare il fatto quotidiano ma non avverrà almeno questo bene fa invece il riformista a richiamare il centrodestra alla linea meno tasse lo fa la prima che vi abbiamo raccontato e lo fa a narita di giorgio con un approfondimento a pagina 2 che evoca proprio il grande fratello fiscale a colpi di pignoramenti una prospettiva che va assolutamente in ritardo la stampa insiste di più pezzo di lombardo e moscatelli a pagina 3 su salvini che chiede la quota 103 e rivista mentre repubblica affronta il medesimo argomento diciamo dal lato politico più che dal lato delle misure la tesi è in particolare retroscena di tommaso ciriaco pagina 3 ciriaco sta seguendo la meloni a bruxelles che meloni sia irritatissima nei confronti di salvini l'idea dice no questa manovra non doveva essere modificata invece qui c'è un pressing per crearmi problemi il commento è affidato a stefano folli che oggi non abbiamo tempo di leggerlo però ve lo segnaliamo perché non solo descrive questa dinamica salvini meloni dicendo ok c'è una questione di merito nelle misure ma c'è anche un tema di diciamo di logoramento politico che dal punto di vista di meloni salvini starebbe tentando e dice folli quando poi si arriverà al nodo oggettivo del mes lo scioglimento di quel nodo sarà un problema non piccolo per la maggioranza essendosi peraltro meloni e a mio avviso ha fatto molto bene dichiarata sempre contraria al mes come si fa come come si scioglie questa questione siamo alle conclusioni segnalazioni conclusive stavate in pena che non è arrivato non arrivava il nuovo libro di veltroni state tranquilli che arriva arriva e sarà lacrimoso e lacrimogeno con veltroni al suo meglio john kennedy e bob kennedy eccolo qua i kennedy diario di un sogno i fratelli che volevano cambiare il mondo è un romanzo quindi qui avremo una specie di polpettone in cui ci sarà come un cocktail un 20 per cento di saggio e un 80 per cento di narrativa e l'anticipazione è sul corriere della sera corriere della sera che nella pagina della televisione ospite invece il suo critico aldo grasso che se la prende con nicola porro perché a grasso non piace la zuppa di porro che invece un programma fantastico che nicola porro fa sui suoi canali social e se la prende una seconda volta con porro perché porro è colpevole di ospitare a quarta repubblica chi vi parla e quindi a grasso non va bene porro per la zuppa e non va bene porro in quanto invita capezzone ora a scadenze annuali arriva un articolo di insulti di aldo grasso nei confronti di chi vi parla la cosa porta piuttosto bene quindi la la prendiamo diciamo come un porbon come una cosa di buono auspicio a grasso in tv va bene tutto va bene travaglio va bene scansi va bene la gruber va bene la curso crea va bene massimo giannini vanno bene fazio l'ittizetto gli va bene tutto tranne una persona cioè me e ne siamo preoccupati no cercheremo di elaborare sto lutto e di passare un buon weekend e voi invece passerete un weekend fantastico se soprattutto passerete un weekend fantastico in ogni caso ma ancora è più fantastico se passerete in edicola a prendere libero oppure se meglio ancora sul sito libero quotidiano andrete giù giù in fondo dove c'è lo spazio shopping per abbonarvi al libero e se poi grasso permettendo passerete anche in libreria a prendere basta con sto fascismo e sarà un weekend spettacolare buona giornata a tutti